Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Andréhp, oggi siamo qui su Rainbow Six Siege ragazzi oggi vi porto un glitch veramente fantastico per Mountain, ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like se volete altri video di questo genere di iscrivervi al canale e di lasciare un bel commento di cosa ne pensate, ma iniziamo subito come vedete nella clip vi basterà premere triangolo R1 e anche a volte L1 e in questo modo vi buggerete e lo scudo sarà sempre esteso cioè i nemici vedranno sempre con lo scudo esteso, mentre voi potrete mirare, sparare e anche ricaricare davanti a loro ma vi vedranno sempre con lo scudo esteso ragazzi questo qui è un glitch troppo OP che spero passeranno nei prossimi aggiornamenti perché se in ogni partita ci sta un Mountain userà sempre questo glitch perché è troppo forte qui ci troviamo nella seconda parte del video di come i nemici vi vedranno qua mentre stiamo facendo il glitch e successivamente con lo scudo esteso dove il mio amico OP PSYCHO mi riuscirà a sparare e a tirare i flash venga anche con lo scudo esteso Niente, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento e di iscrivervi al canale noi ci vediamo a un prossimo video, bella raga iscriviti al canale iscriviti al canale